I disordini scoppiano lo scorso aprile all'annuncio del Presidente Nkurunziza di correre per un terzo mandato presidenziale in violazione della Costituzione che limita a due mandati la possibilità di ricoprire l'incarico. Pierre Nkurunziza però si difende dicendo che nel 2005 fu nominato alla presidenza direttamente dal Parlamento e corre quindi di diritto per un ulteriore mandato. La Corte Costituzionale gli dà ragione ma lo scorso maggio il suo vice ha lasciato il paese denunciando l'incredibile pressione cui sono stati sottoposti i giudici per concedere il nulla osta alla candidatura del Presidente. Ex colonia belga dalla sua indipendenza nel 62 la storia del Burundi si articola in violenze, conflitti etnici e colpi di Stato. Il conflitto interetnico che ha opposto i Tuzzi che avevano in mano i posti chiave delle istituzioni e dell'esercito malgrado rappresentassero il 15% della popolazione agli Utu ha fatto centinaia di migliaia di morti. L'accordo di pace di Arusha nel 2000 raggiunto con la mediazione di Nelson Mandela è un passo in avanti che sancisce la spartizione del potere ma Utu e Tuzzi non l'accettano, la guerra civile continua. Nel 2003 ci sono i primi segnali di distensione seguiti un anno dopo da una missione ONU di peacekeeping. La volontà di normalizzazione porta alla nomina da parte del Parlamento di Nkurunziza Presidente. Dopo una guerra civile di oltre 20 anni il paese è in ginocchio, sono oltre 300.000 i morti e l'economia è allo sfascio. Dopo le elezioni del 2010 si assiste ad una recrudescenza della violenza alimentata anche dall'incursione di gruppi ribelli dalla vicina Repubblica Democratica del Congo. Le recenti violenze hanno costretto alla fuga più di 200.000 persone.